Nel vecchio vuotello, Antoine, erano riservati in tutta la regione i massi servizi di pulizia. Quando c'era da far ripulire una fossa, un letamaio, uno smaltitoio, da vuotare una fogna, una buca qualsiasi piena di melma non si ricorreva che a lui. E lui arrivava con gli arnesi da vuotaccessi, con gli zoccoli sozzamente impiastrati, e si metteva senz'altro all'opera, non cessando mai di lamentarsi di quel suo mestiere. E se gli domandavano perché dunque facesse un lavoro così ripugnante, rispondeva l'assegnato «Perbaco, per i miei figli, debbo pur mantenerli. Questo mestieraccio frutta più di qualunque altro». Di figli in verità ne aveva quattordici. A chi si informava cosa era stato di loro, diceva con aria indifferente «Non ne restano più otto in casa. Uno è soldato e cinque sono sposati». Se poi insistevano per sapere se fossero bene accasati, rispondeva con un tono vivace «Io non li ho contrariati. Non mi sono opposto in nulla. Si sono sposati come hanno voluto. Non bisogna mai opporsi alle inclinazioni. Finisce male. E se io faccio questo lavoro è proprio perché i miei genitori mi hanno contrastato nei miei gusti. Altrimenti sarei anch'io un operaio come gli altri». Ecco in che cosa non avevano assecondato i suoi gusti. Egli era a quel tempo soldato e compiva il suo servizio alle Havre, senza essere né più stupido né più furbo d'un altro, lui che a dir la verità alquanto sempliciotto. Durante le ore di libera uscita, il suo piacere più grande era quello di passeggiare sulla banchina, dove stavano riuniti i venditori di uccelli. A volte solo, a volte con un compagno, se ne andava l'MLM lungo la fila delle gabbie, nelle quali i pappagalli delle Amazzoni, dal dorso verde e dalla testa gialla, quelli del Senegal, dalla schiena grigia e dal corpo rosso, gli ara enormi, simili a uccelli cresciuti in serra, con le loro penne variopinte, i loro pennacchi, i loro ciuffetti con le loro parrucche di ogni dimensione, che si direbbero colorite con cura minuziosa da un buon dio miniaturista, e i piccoli, piccolissimi uccelli saltellanti, rossi, gialli, azzurri e screziati, che mescolano i loro gridi al chiasso della banchina, recano nel frastuono delle navi scaricate, dei passanti e delle vetture, un rumore violento, acuto, stridulo, assordante, di foresta lontana e sovrannaturale. Votel si fermava a bocca aperta, con gli occhi spalancati, sorridente e felice, mostrando i denti e chiacatua prigionieri, che con il loro ciuffo bianco e giallo salutavano il rosso sgargiante dei suoi pantaloni e l'ottone del suo cinturone. Quando si imbatteva in uno di quegli uccelli ciarlieri, gli rivolgeva delle domande, e se in quel giorno l'animale aveva voglia di rispondere, gli conversava con lui, era contento e felice per tutta la giornata. Anche guardando le scimmie, si faceva le più matte risate, e non immaginava l'usso più grande, per un uomo ricco, che avere in casa quegli animali, così come si tengono gatti e cani. Quel gusto, quel gusto dell'esotico, se l'aveva nel sangue come sia la passione della caccia, della medicina o la vocazione al sacerdozio. Ogni volta che si aprivano le porte della caserma, non poteva fare a meno di ritornare al molo, come se si fosse sentito attratto da una voglia irresistibile. Un giorno, mentre era fermo, quasi in estesi davanti a un mostruoso ara, che gonfiava le penne, si inchinava, si rialzava, pareva facesse le riverenze di corte, del paese dei pappagalli, vide aprirsi la porta di un'osteria, accanto alla bottega del mercante di uccelli, e apparve una giovane negra, con un fazzoletto rosso in testa, che stava spazzando verso la strada, i tappi e la polvere sparsi sul pavimento della taverna. L'attenzione di Botel fu immediatamente divisa tra l'animale e la donna, e non avrebbe proprio saputo dire quale dei due contemplava con maggior stupore e piacere. La negra, dopo aver buttato fuori dalla bettola la sporcizia, alzò gli occhi, e rimase a sua volta abbagliata dall'uniforme del soldato. Restava di fronte a lui, con la scopa tra le mani, come se gli stesse facendo il presente a Tarm, mentre Lara continuava ad inchinarsi. Ora, il soldato, dopo qualche minuto, si sentì imbarazzato da quell'attenzione, e si allontanò pian piano, per non aver l'aria di battere ritirata. Ma ritornò. Quasi ogni giorno passò davanti all'osteria delle colonie, e spesso gli capitò di scorgere attraverso i vetri la piccola domestica, dalla pelle nera, che serviva boccali di birra o bicchierini d'acquavite ai marinai del porto, e spesso la ragazza, vedendolo, usciva fuori. Non passò molto tempo, che pur senza essersi mai rivolti la parola, si come vecchi amici. Potel si sentiva il cuore in subbullio, vedendo d'improvviso brillare, fra le labbra scure della ragazza, la fila lucente dei denti. un giorno finalmente entrò e fu proprio stupito udendo che lei parlava francese come tutti la bottiglia di limonata della quale lei accettò un bicchiere rimase nel ricordo del soldato memorabile e squisita e lui pure prese l'abitudine di venire a bere in questa taverna del porto tutte le bevande dolci che la sua borsa gli permetteva era per lui una festa una felicità a cui pensava di continuo quella di osservare la mano nera della servetta che versava qualcosa nel suo bicchiere mentre i denti le ridevano più chiari degli occhi dopo due mesi che si conoscevano divennero proprio buoni amici e Boatel passato il primo stupore nel vedere che le idee di questa negra erano simili alle idee assennate delle ragazze del paese che faceva gran conto dell'economia del lavoro della religione della buona condotta l'amò ancor di più si invaghì di lei a tal punto da volerla sposare le comunicò anzi il suo progetto e questo le diede una tal gioia che lei si mise a ballare d'altra parte la ragazza possedeva un po di denaro lasciatole da una venditrice di ostriche che l'aveva raccolta quando era stata deposta sulla panchina di Leavra da un capitano americano questi l'aveva trovata bimba di circa sei anni rannecchiata sopra alcune balle di cotone nella stiva della sua nave poche ore prima della partenza da New York arrivato a Leavra l'aveva abbandonata alle cure dell'ostricara impietosita da quell'animaletto negro nascosto a bordo senza che si sapesse né da chi né come morta la venditrice di ostriche la negra era divenuta cameriera alla taverna delle colonie antoin boatele precisò il nostro matrimonio si farà se i miei genitori non vi si opporranno io non li contrarierò mai capisci mai dirò loro due paroline la prima volta che ritornerò al paese la settimana seguente infatti avendo ottenuto 24 ore di permesso andò dai suoi che coltivavano un piccolo podere a Torteville presso Efto aspettò la fine del pasto il momento in cui il caffè corretto con acquavite apriva maggiormente i cuori per informare i suoi genitori che aveva trovato una ragazza la quale rispondeva così bene ai suoi gusti a tutti i suoi gusti che non riteneva se ne fosse un'altra sulla faccia della terra più adatta a lui i vecchi a questo discorso si fecero subito circospetti e chiesero spiegazioni lui non nascose nulla d'altronde all'infuori del colore della pelle era una domestica che non disponeva certo di un granché ma robusta economa pulita di buona condotta e di buon senso cose tutte che volevano più del denaro nelle mani di una cattiva massaia d'altra parte qualche soldo l'aveva anche lasciatole da una donna dalla quale era stata allevata una sommetta una specie di piccola dote 1500 franchi alla cassa di risparmio persuasi da questi discorsi i vecchi che del resto avevano fiducia nel suo criterio già cedevano a poco a poco quando lui giunse sul punto delicato ridendo di un riso un po forzato non c'è che una cosa disse che potrà sconcertarvi non è bianca neppure un briciolino essi non capivano lui dovette spiegare a lungo con molte precauzioni per non scolazzarli che lei apparteneva alla razza nera nella quale non avevano veduto saggi che nelle immagini di epinà allora si mostrarono impensieriti perplessi timorosi come se avessero loro proposto un'unione col diavolo diceva la madre nera quanto e dappertutto lui rispondeva ma certo dappertutto come tu sei bianca dappertutto riprendeva a dire il padre nera e nera come il paiolo e il figlio forse un pochino di meno è nera ma non era poi da far disgusto anche la tonaca del signor curato è molto nera e non per questo è più brutta ad una cotta che è bianca diceva il padre al suo paese se ne sono di più nere e il figlio convinto esclamava ma certamente e il bravo uomo spuoteva la testa deve però essere spiacevole e il figlio non più di un'altra cosa perché ci si avvezza subito la madre domandava queste pelli non sporcano la biancheria più delle altre non più della tua essendo questo il suo colore dopo molte altre domande ancora ho stabilito che prima di prendere qualsiasi decisione i genitori vedrebbero questa ragazza e che il giovane che terminava il suo servizio al mese seguente la condurrebbe in casa perché si potesse esaminarla e discorrendo deliberare se non fosse troppo scura per essere ammessa a far parte della famiglia Boatel allora Antoine annunciò che domenica 22 maggio giorno del suo congedo sarebbe partito per tourteville con la sua buona amica la ragazza aveva indossato per quella visita ai genitori del suo innamorato i suoi abiti più belli i più vistosi in cui dominavano il giallo il rosso e il turchino in modo che pareva appavesata come per una festa nazionale nella stazione alla partenza dalle havre la guardarono molto e Boatel era fiero di dare il braccio a una persona che suscitava tanta attenzione poi nello scompartimento di terza classe in cui la ragazza prese posto accanto a lui la sua vista suscitò una tale sorpresa tra i contadini che i viaggiatori degli scompartimenti vicini salirono sui sedili per esaminarla al di sopra della parete di legno che separava i vari scompartimenti un bambino vedendola si mise a urlare per la paura un altro nascose il viso nel crembiule della madre andò tutto bene fino alla stazione di arrivo ma quando il treno rallentò la corsa avvicinandosi ai vitaux Antoine cominciò a sentirsi a disagio come al momento di un'ispezione quando non sapeva la teoria poi affacciatosi al finestrino riconobbe da lontano il padre che teneva le briglie del cavallo attaccato al barroccio e la madre venuta fino alla cancellata che tratteneva i curiosi se se per primo tese la mano alla sua amica e rigido come se stesse scortando un generale si diresse verso la famiglia la madre vedendo arrivare quella signora nera e variapinta in compagnia del suo ragazzo era rimasta talmente sterrefatta che non riusciva più ad aprire bocca e il padre durava fatica ad ammanzire il cavallo che si impennava in continuazione per via della locomotiva o della negra ma Antoine colto ad un tratto dalla gioia profonda di rivedere i suoi vecchi si precipitò verso di loro a brazza aperte dette un sonoro bacione alla madre e al padre malgrado lo spavento del ronzino poi voltandosi verso la sua compagna che i passanti sbalorditi si fermavano a guardare e spiegò eccola ti avevo pur detto che a prima vista è un po' sconcertante ma appena si comincia a conoscere quanto è vero dio non c'è nulla di più piacevole sulla terra ditele buongiorno perché non resti male allora mamma buatel intimiditata al punto da perdere il senno fece una specie di riverenza mentre il padre si toglieva il berretto mormorando vi auguro ciò che vi aggrada e subito tutti si arrampicarono sul barroccio le due donne in fondo su certi sedili che facevano saltare in aria ad ogni sobbalzo dovuto alla strada i due uomini sul davanti sulla panchina nessuno fiatava Antoine preoccupato fischiettava un'arietta da caserma il padre frustava il ronzino e la madre gettando di sfuggita sguardi da faina osservava con la coda dell'occhio la negra la sua fronte e i suoi zigomi brillavano al sole come scarpe ben lustrate per rompere il ghiaccio Antoine si voltò ebbene disse non chiacchierate ci vuol tempo disse la vecchia su racconta alla ragazza la storia delle otto uova della tua gallina era una farsa famosa in famiglia siccome però sua madre paralizzata dalla commozione continuava a tacere prese gli stesso la parola e raccontò ridendo molto quella memoranda avventura il padre che la sapeva per filo e per segno alle prime parole si rasserenò sua moglie non tardò a seguirne l'esempio e la stessa negra al punto più comico scoppiò ad un tratto in una risata una risata così rumorosa ininterrotta e torrenziale che il cavallo eccitato accennò un passo di piccolo galoppo la conoscenza era fatta cominciarono a chiacchierare appena arrivati dopo aver accompagnato l'amica in camera sua perché potesse togliersi il vestito che avrebbe potuto macchiare preparando un suo piatto speciale destinato a prendere i vecchi per il ventre Antoine trascinò i genitori davanti alla porta e chiese col cuore che gli batteva forte ebbene che ne dite il padre tacque la madre più erudita dichiarò è troppo nera no davvero è troppo mi sono sentita rimescolare il sangue vi ci abituerete disse Antoine può darsi ma non per il momento certo entrarono e la buona vecchia si commossa vedendo che la negra stava cucinando allora cominciò ad aiutarla con la sottana tirata su attiva nonostante l'età il pasto fu buono lungo allegro quando poi uscirono a fare un giretto Antoine prese il suo padre da parte e allora papà che ne dici il contadino non si comprometteva mai non lo so chiedi a tua madre allora Antoine raggiunse la madre e trattenendola indietro e allora mamma che ne dici povero ragazzo mio è troppo nera davvero lo fosse soltanto un pochino meno non mi opporrei ma è troppo nera sembra il diavolo lui non insistette ben sapendo che la vecchia era piuttosto ostinata ma sentiva scatenarsi in cuore una tempesta dolorosa studiava il defarsi e ciò che fosse possibile inventare sorpreso d'altronde che lei non li avesse conquistati come aveva invaguito lui e se ne andavano tutti e quattro a passi lenti fra le distese di grano ridiventati a poco a poco silenziosi quando costeggiavano un recinto i coloni si facciavano allo steccato i monelli si arrampicavano sulle scarpate tutti si precipitavano sulla strada per veder passare la negra che vuotè il figlio aveva condotto a casa in lontananza si vedeva gente correre attraverso i campi come si accorre quando batte il tamburo per annunziare dei fenomeni viventi i vuotè il padre e madre sbigottiti per la curiosità che il loro avvicinarsi diffondeva per la campagna affrettavano il passo l'uno di fianco all'altra precedendo a distanza il loro figliolo a cui la compagna intanto domandava che cosa i suoi genitori pensassero di lei lui perplesso rispondeva che non avevano ancora preso una decisione ma sulla piazza del villaggio poi avvenne una specie di sortita di massa di tutte le famiglie in orgasmo e i vecchi boatelle di fronte a questo affollamento che andava inglossando sempre più presero la fuga tornandosene a casa mentre entro a un pazzo di collera avanzava maestosamente con la sua amica sotto braccio sotto gli occhi sgranati per lo stupore capiva che era finita che non c'erano più speranze che non avrebbe sposato la sua negra anche lei lo capiva avvicinandosi alla fattoria si misero tutti e due a piangere appena rientrati la ragazza si tolse di nuovo il vestito per aiutare la vecchia nelle faccende la seguì dappertutto alla latteria alla stalla al pollaio sbrigando le faccende più pesanti ripetendo continuamente lasciate fare a me signora boatelle tanto che arrivata la sera la vecchia commossa inesorabile disse al figlio è una brava figuola non c'è che dire è un peccato che sia così nera lo è troppo davvero non riuscirei ad abituarmici bisogna che se ne vada è troppo nera e Antoine disse alla sua amica non vuole ti trova troppo nera bisogna andar via ti accompagnerò fino alla ferrovia non importa non ti preoccupare parlerò con loro quando sarai andata via l'accompagnò alla stazione dandole ancora buone speranze e dopo averla abbracciata le fece salire sul convoglio che vide allontanarsi con gli occhi gonfi di lacrime ed ebbe un bell'implorare ai vecchi essi non la consentirono mai quando boatelle finiva di raccontare questa storia che tutto il paese conosceva soggiungeva sempre da allora più nulla mi stette a cuore più nulla nessun mestiere mandava più e divenne ciò che sono un vuoto accessi vi osservavano però vi siete sposato sì ne posso dire che mia moglie mi sia spiaciuta poiché ne ho avuto 14 figli ma non è l'altra o no certo o no l'altra vedete la mia negra non aveva che da guardarmi ed io mi sentivo come trasportato in paradiso